Quello che gli accomuna è l'età. Poi sono tutti di seconda generazione. Ma non è aperto. Io ho una certa età. Costituire un'associazione sportiva e portarla avanti è una cosa non indifferente. L'abbiamo chiamata per chiedere se potevamo organizzare un incontro il più presto possibile. E questa è l'associazione regionale ATP, AGB, ATVB, ATVB, ATVBA, BBN, COBB, FSBA, LNBA. La rabbia che ho dentro la uso per andare a rimbalzo, per difendere con la correttezza. Siamo condannati a essere perfetti. Una bella partita, una vittoria. 3, 2, 1... È meglio fare già dall'inizio e quasi tutta la partita lo schema difesa-zona. 3, 2, 1...